Purtroppo le cose possono succedere per varie cause, negligenza, sfortuna, casualità, però secondo me certe volte noi camperisti ce la andiamo proprio a cercare. Vediamoci il video. Campionisti buongiorno buongiorno a tutti anzi buon pomeriggio perché sono le ore 17 e 38 di un bellissimo giorno pieno di sole prima di partire che cosa come al solito volevo dare benvenuti nuovi iscritti appunto ringraziarvi per essere iscritti a questo canale sperando che vi possa aiutare a mantenere il vostro bel mezzo perfettamente funzionante. Oggi di che cosa si parla? Si parla poco però vi faccio vedere un'immagine che devo dire la verità avrei preferito non farvi vedere ma prima di partire di che cosa si parla? Si parla degli accrocchi miei cari si parla degli accrocchi di noi camperisti Scusate perché? Perché il camperista medio nell'arco di un anno cerca di morire 3-4 volte aggeggia con l'impianto elettrico del camper, con il gas, con il cinesino, monta autoradio delle peggio specie, cave, sotto cave, nastro isolante Ne facciamo di ogni sui nostri mezzi, qualcosa è necessario, qualcosa lo facciamo perché ci piace farlo Il problema qual è quando facciamo queste cose? Che facciamo delle cose sperando che vadano bene, cioè per farmi capire Non studiamo, non capiamo come funziona, non cerchiamo di vedere come funziona un determinato oggetto Cioè esempio, montiamo un autoradio, possiamo montarlo nel miglior modo ma 9 su 10 lo montiamo in maniera errata Perché magari lo montiamo a fantasie, cioè smontiamo, vediamo come è collegato e lo ricolleghiamo uguale Però non capiamo perché è collegato in quel modo Noi accertiamo che questo collegamento sia fatto in maniera corretta ma soprattutto non studiamo la materia Io in tanti video ho detto prima di fare qualsiasi cosa studiate e guardate video di tutti i tipi Non solo di un canale ma non per dar vantaggio al mio, ci mancherebbe altro perché più opinioni ti danno più conoscenza Quindi e oltre ai video leggiamo argomenti, studiamo la materia perché? Perché è molto importante Perché se tutto va bene siamo dei fenomeni, se tutto va male siamo dei cretini Perché? Perché potevamo studiare un pochino di più l'operazione da fare e potevamo evitare problematiche al nostro camper E finché si tratta di problematiche di lieve entità, esempio, non mi parte il riscaldatore, non mi parte l'autoradio Ho fatto il tagliando e perde olio, il camper, cioè quando si tratta tra virgolette di cose di minima entità Allora vabbè si può sempre rimediare E da tante altre volte sempre nei miei video ho detto quando si tratta di lavorare con il gas Fatelo fare a chi lo sa fare perché noi possiamo essere più bravi di questo mondo Ma con il gas io la mano su non ce la metto Cioè se ce la devo mettere è proprio per estrema necessità o per piccolissime cose che potrebbe fare anche un bambino di 4 anni Questo piccolo intro per far cosa? Per farvi vedere che cosa è successo Previssimo, qualche giorno fa in una zona non molto lontana da dove abito è scoppiato un incendio Questo incendio è che ho avvolto 7-8 macchine Il problema qual è stato? Che all'inizio si pensava fosse un incendio doloso Cioè dovuto a, boh, perché erano parcheggiati in maniera non corretta Perché davano fastidio a qualcuno Però questo poi non si è rivelato così Che cosa è successo? È successo che al quanto probabile mi sono intortato L'incendio è partito da un camper Ora, io non so se il camper aveva subito modifiche strane Se magari hanno state fatte cose strane su questo camper O se semplicemente, botta di sfortuna, ha avuto un cortocircuito ed è partito Però, se tanto mi dà tanto Secondo me, o erano state fatte delle modifiche un po' strane E quindi di conseguenza qualcosa non è andato come doveva andare O altrettanto probabilmente il camper non era tenuto in maniera corretta dal punto di vista della manutenzione Non era stato ricontrollato l'impianto elettrico O magari erano state fatte modifiche sull'impianto elettrico E non erano state controllate da un esperto Quindi probabilmente questo camper non era stato tenuto in condizione ottimale O magari il gas era stato lasciato aperto E per X motivo c'è stata una perdita del gas Perché poi, nonostante c'è stato l'incendio Ci sono state anche due esplosioni di bombole a GPL Quindi quanto probabile che le bombole esplose siano state quelle all'interno del camper Quindi Io direi che forse, forse, forse Questo camper non è stato proprio tenuto in condizione eccezionale O comunque sono state fatte cose strane E questo che cosa ha comportato? Ha comportato, innanzitutto, un grosso pericolo per gli abitanti Che abitavano appunto vicino a questo parcheggio E due, un danno molto molto elevato Perché ha provocato la completa distruzione del camper E lì, va bene Ma ha portato anche la completa distruzione di, mi sembra, 7-8 macchine Quindi, mio caro, mi sa che il proprietario del camper passerà un brutto mese Perché, insomma, poi ci sarà da risarcire, assicurazione e quant'altro Ma finiamo con le chiacchie, vi faccio vedere dal vivo che cosa è successo E poi ritorniamo in camper Insomma, la scena è abbastanza eloquenta, non c'è da aggiungere altro Vedete, insomma, tutti i furgoni sono stati avvolti dalle fiamme Non c'è rimasto nulla E qualcuno si chiederà, ma dov'è il camper? Bene, quello che vedete lì È quello che rimane del camper Sì, veramente non c'è rimasto più nulla Adesso ci avviciniamo Guardate, eccoci In pratica il camper è questo qua In buona sostanza non c'è rimasto praticamente nulla se non le parti in metallo Dovrebbe essere a occhio un MK3, insomma, un camper come il mio E, insomma, guardate Proprio, non c'è rimasto nulla, nulla, nulla Le macchine coinvolte dovrebbero essere 7-8 Ce ne sono altre due là dietro, una là dietro E, insomma, è andata bene Perché comunque ero in una zona isolata Non c'erano abitazioni E, insomma, poteva andare molto molto peggio E questo ci deve insegnare E ci deve, insomma, far capire come bisogna trattare i nostri mezzi Vabbè, andiamo avanti, vai Mamma mia Insomma, le immagini erano abbastanza chiare Non c'era da fare altro, insomma Non c'era da indagare più di tanto L'incendio ha coinvolto diverse macchine Diversi furgoni e un paio di macchine Quindi, bah, è andata bene, secondo me Poteva andare molto molto peggio Soprattutto se si trovava in un parcheggio In un centro abitato O comunque vicino ad abitazioni Per fortuna era una zona industriale Ed era un parcheggio abbastanza isolato Insomma, speriamo che tutto si riesca a risolvere In maniera, insomma, semplice E che non ci siano strascichi legali e quant'altro Da quello che si dice, come vi dicevo Pare sia stato il camper Per ora Io Sinceramente spero che poi le cose vengano vagliate Da chi di dovere E che sia accertato realmente chi è stato Se non dovesse essere stato il camper Vi metterò nei commenti Insomma, quello che poi Come è andata avanti un po' tutta la storia Però, insomma E' abbastanza impressionante Il camper che cosa c'è rimasto Non c'è rimasto praticamente niente C'è rimasto soltanto la scocca Era abbastanza prevedibile Perché i nostri camper sono legno e polistirolo Però, insomma Davvero Per fortuna non c'era nessuno dentro Per fortuna non c'era nessuno dentro i furgoni Quindi, insomma Ripeto Poteva andare molto 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 peggio Soprattutto perché poi all'interno del camper C'erano anche delle bombe del GPL Quindi, insomma Tanta roba Poteva essere davvero un bel botto Comunque, signori Io, questo video che cosa ci insegna? Ci insegna a mantenere i nostri mezzi perfettamente in ordine Ci insegna a curarli A mantenerli Indipendentemente dall'età Dai chilometri E dall'utilizzo che ne facciamo Perché? Perché come potete vedere Può essere stata una fatalità Può essere stata una negligenza Però Quando poi vi capita Insomma, diventa un bel problema Ok? Signori Io, come al solito Vi ringrazio Per le visualizzazioni Ovviamente vi invito ad iscrivervi al canale Perché è gratis Sono le ore 18 e 16 Io quasi quasi vado a fare un bel aperitivo Ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao